Sì, se rispondi a questa domanda, devi moltiplicare il numero delle ore di una giornata per due e aggiungerci le stagioni. Quanto fa? 46. Prova. Prova. Perfetto. Allora, devi prendere il numero delle ore di una giornata, ti moltiplichi per due e ci aggiungi il numero delle stagioni. 32. Vabbè. Aspetta. Ehi, si fa un problema. Tu mi sono andata a lavorativa? No, no. Mi sono andata insieme. 24 per le stagioni? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 28. 28. Ce la fanno in tesi c'è annoio. Aspetta, aspetta, aspetta. 23. 23. Diviso 3. 29. Vabbè. 28 diviso 3. 28 diviso 3. Eh, 3 nel 2 stagioni. Ah, Luca, ma che cazzo dici? Oh, 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 aspettate. 28 diviso 3. 28 diviso 3. 28 diviso 3. 29 diviso 4. Non è possibile? Non ci devo una quattro sia! No! Ma è strano, ragazzi, eh? Ma per absoriti! No, diviso 10. Moltiplicato per 4. Falle Università all'Ull! Vai! Allora? Vabbè! 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 Grazie a tutti.